ciao bellezza e buon venerdì mattina a tutti volevo farvi un bellissimo video oggi dove vi voglio parlare del regina in vernice dunque noi a tutte le nostre amate clienti che acquistano una scarpa regina in vernice consegniamo la nostra magica spugnetta io consiglio sempre ad ogni entrata in pista di strofinare le parti che si toccano mentre balliamo quindi questa zona questa i due taloncini perché quando arrivo a chiudere tante volte vado a sbattere se non ho fatto sufficientemente tecnica quindi non arrivate a sbattere ma arrivate vicino e passate per fare un passo in adelante o in atrás quando fate questo passaggio può capitare di strofinare contro l'altra scarpa regina e per questo noi abbiamo inventato la magica spugnetta per cui se non la trovate nella scatolina ce la potete richiedere ma è impossibile perché noi la mettiamo a tutte voi per cui prendetevi cura delle vostre regina come solo le originali sanno essere confortevoli belle strofinate sia la scarpa sinistra e la scarpa destra e anche qua da tutte e due i lati e le vostre scarpe saranno super super scivolose mi raccomando seguite sempre i nostri consigli oppure chiedeteci anche assistenza quando la scarpetta l'avete già acquistata mi raccomando buon weekend a tutti ciao bellezza